Pachino, emergenza idrica in città, zona senza acqua, requisito il Pozzo Marino. Gravi disagi a Pachino riguardante l'erogazione idrica sul territorio. Sono consapevole degli inconvenienti che tutti stiamo da anni sopportando, afferma il sindaco Carmela Petralito. Nei giorni scorsi ho adottato un'ordinanza per requisire temporaneamente il Pozzo Marino. Per attuare altre azioni urgenti ho convocato una riunione operativa con l'assessore ai lavori pubblici, campo e i responsabili dei settori comunali che si occupano delle risorse idriche a Pachino. Si è concordato di adottare nelle prossime ore delle misure immediate per assicurare un'adeguata quantità di acqua in tutti i quartieri alternando e ripartendo le necessarie restrizioni. Intanto informo che per problemi dovuti a un guasto agli impianti al quale si sta tempestivamente provvedendo a ripristino, nelle prossime ore potrebbero verificarsi dei disagi nella distribuzione dell'acqua in alcune zone. Ci stiamo impegnando al massimo e a breve potremo dare delle importanti buone notizie per uscire da un'emergenza acqua che dura ormai da tanti, troppi anni, conclude il primo cittadino Petralito.